Oggi abbiamo presentato al mercato Cronaca Pop di Widiba, l'autobiografia della banca scritta da chi la fa, la vive e la espira giornalmente. Nel tempo abbiamo raccolto più di 150 contributi e alla fine quando abbiamo riletto tutti i vari pezzetti abbiamo visto che nei ricordi delle persone che hanno progettato Widiba c'è un tratto comune. Pop veramente è un po' la freschezza che ha Widiba, quindi l'anima un po' giovane, digitale. Cronaca è proprio la spazio che lo danno molto alle storie. Scoprire che effettivamente delle persone siano state coinvolte in questa scrittura è stato fantastico. Insieme ai partecipanti abbiamo dato vita a un laboratorio di scrittura. Siamo arrivati a creare un racconto unico del nostro 2000XX e sarà questa la base per il prossimo futuro di Widiba e per sviluppare tutti i progetti, prodotti e servizi nei prossimi mesi. È stata una bellissima emozione perché è un libro fatto attorno all'immagine di Widiba che è una banca molto frizzante e che lascia un po' le persone con il sorriso che non è l'idea classica di banca. Senz'altro ho un'impressione davvero positiva che in qualche modo mi ha messo in primo piano nella stesura appunto di un racconto, scrivere perché sono diventato cliente Widiba, cosa mi piace e che cosa mi aspetto e ne sono davvero orgoglioso. Quello di oggi non è un momento di condivisione fine a se stesso, ma segna un passaggio importante. Widiba passa da essere un modello di business a essere un modello di persone. Widiba sarà sui nuovi trend, sullo sviluppo della tecnologia di ultima frontiera, sui big data, sull'analisi delle informazioni. Saremo lì e lì arriveremo, ma partiamo da un presupposto diverso. Oggi Widiba più che mai punta sul valore delle persone come motore di sviluppo per il suo prossimo futuro. Mi piace tantissimo che finalmente si parla di persone perché dalle persone proprio è nata Widiba, sono nate tante storie e queste storie si sono intrecciate per creare dei sogni e per creare delle nuove prospettive. Qui c'è stata la condivisione di storie di persone all'interno della storia della struttura, che è quella della banca, diffusa ma proprio con le persone al centro.